Eccoci nello studio di 8 e mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda sulla 7. La puntata è quella di mercoledì 11 settembre, puntata in cui al centro che la vicenda Gennaro San Giuliano Maria Rosaria Boccia Tra gli ospiti in studio figurano Italo Bocchino e Massimo Giannini, firma di Repubblica Quest'ultimo, va da sé, si lancia in una lunga intemerata con toni apocalittici circa le responsabilità di San Giuliano, le implicazioni per il governo e i danni alla cosa pubblica Intemerata giudicata e ipertroficamente esagerata da Bocchino.Dunque, Gruber si rivolge a Bocchino chiedendogli se siamo noi giornalisti a fare troppo gossip E lui risponde, ho l'impressione che la sinistra stia un po' sbagliando gli obiettivi e i giornalisti per sostituirsi alle carenze della sinistra si attaccano a tutto ciò che accade Io ho notato che i sondaggi danno il governo, Giorgia Meloni e FD in ottima salute, rimarca Significa che tutto quel che ha raccontato Giannini non gliene frega niente a nessuno, assesta un colpo d'acco tecnico alla firma di Repubblica Gli italiani, riprende, votano Meloni perché l'Istat ha documentato che per la prima volta nella storia d'Italia sono stati superati 24 milioni di occupati E il PIL è in crescita.Non so se Giannini se ne è accorto punto ma non è finita Poi la sinistra, aggiunge Bocchino, un giorno si attacca Ilaria Salis che va in giro per l'Europa a far casini Poi si attacca alla boccia per cercare di far danni al governo Ma che esempio è? Perché deve essere invitata alle trasmissioni televisive? Quello era un fatto privato La questione pubblica riguarda i soldi dello Stato, San Giuliano dimostrerà che ha pagato tutto di tasca sua Poiché è stato un errore nel valutare l'iptesi di una consulenza alla signora Boccia, gli uffici hanno detto che il curriculum non era adeguato hanno bloccato la nomina ed è successo un pandemonio perché i giornalisti hanno reputato questo più importante del record dell'occupazione Grazie Grazie